Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sono dei giornali che raccontano di un piano segreto per non far governare il centrodestra. Ma di che cosa si tratta? Se la vittoria del CDX centrodestra fosse meno netta o sarà meno netta di quella data oggi nei sondaggi, secondo Carlo Calenda, che si legge in un articolo su La Repubblica, si arriverà inevitabilmente alla cosiddetta maggioranza Ursula. O meglio, saranno proprio i leader di Forza Italia e magari anche della Lega a preferire Draghi a Giorgia Meloni. Secondo il leader di azione, una coalizione Ursula, che prende l'indicazione da Ursula von der Leyen, una coalizione così Ursula sarà inevitabile per le tensioni finanziarie esterne, internazionali e per le tensioni politiche interne dello stesso centrodestra. Di maggioranza Ursula parlo, dice, da 300 anni se c'è da lavorare con il PD. Non è che disistimo le persone perché non ci vado più d'accordo. Quindi penso che dovremmo arrivare a una larga coalizione di partiti europeisti. In questo momento Andrea Orlando e Giorgetti stanno governando insieme. Questa è la proposta lanciata da Calenda in tv. La scommessa sulla maggioranza Ursula però potrebbe rivelarsi perdente se si guardano i sondaggi. In più occasioni infatti il terzo polo è stato accreditato manco al 5%, attenzione, neanche al 5%. Questo vuol dire che si parlava di un centro che valesse tra il 10 e il 15%, quasi si ritrova, o almeno si ritrovano loro, con neanche un 5%. Quindi questa ago della bilancia che doveva essere il centro di Calenda in realtà non sembrerebbe bilanciare assolutamente nulla. La strada a Ursula poi diventa difficile da percorrere soprattutto se il centrodestra è davvero forte come mostrano i sondaggi e il centro-sinistra invece molto indietro. Se quello che dicono negli ultimi giorni venisse confermato dal voto del 25 settembre è difficile che alla fine si crei una maggioranza ballerina in Parlamento. Nel frattempo il Dem Enrico Borghi pone un'altra questione. Dice vorrei ricordare che la maggioranza Ursula coinvolge anche i grillini. Calenda ha cambiato di nuovo idea. L'unico ostacolo, allora quello che può succedere è che i sondaggi non siano così favorevoli al centrodestra. Se fosse così, a questo punto succederebbe che i grillini si alleerebbero col PD. A questo punto per arrivare a un pareggio o essere vicini a un pareggio col centrodestra dovrebbero tutti mettersi insieme, compreso Calenda, grillini. Calenda accetterebbe di mettersi insieme ai grillini? Io credo di sì, perché potrebbe dire eh lo facciamo per impedire alla destra nostalgica di andare al governo, quindi ci sacrificheremo, andremo a governare con Di Maio, ma lo facciamo per il bene del paese. Questo potrebbe succedere e Calenda potrebbe anche diventare un ministro di una sorta di governo come quello che c'è oggi, dove verrebbe rimesso a capo Draghi, dove la Lega e Forza Italia si unirebbero agli altri e si riproporrebbe la stessa identica situazione di oggi. Quella situazione appunto che la Meloni intravedeva qualche mese fa, dicendo non è che i miei pseudo-alleati vogliano realmente rifare lo stesso governo di oggi? Perché Giorgia Meloni come oggi non accetterebbe di entrare in un governo di questo tipo, ma si potrebbe ricreare la stessa identica situazione. intanto vi racconto, vi racconto di altre notizie, vabbè quella di Salvini che scriva ad avvenire, ve l'ho raccontata ieri, un video divertente che vi consiglio di vedervi, intanto vi racconto di Veronica Gentili che su Giorgia Meloni dice ho notato che. Che cosa ha notato Veronica Gentili a controcorrente su Rete4? Rivolgendosi alla sua ospite la senatrice Daniela Santanchè sottolinea in Fratelli d'Italia si fa notare sempre che c'è una grande disciplina e fedeltà a quella che è la linea del partito. È raro che si creino polemiche interne. A quel punto la conduttrice alla Santanchè ha chiesto secondo lei questo da cosa dipende e perché invece a sinistra succedono spesso fenomeni di questo tipo? Immediata la replica della senatrice che ha spiegato in Fratelli d'Italia non c'è una guerra tra bande, ci sono dei criteri molto chiari dettati dalla nostra leader Giorgia Meloni che mette al centro il merito, il merito di chi ha lavorato sul territorio, di chi ha lavorato nei nostri dipartimenti, di chi ha fatto bene il proprio lavoro. La Santanchè poi ribadisce noi non abbiamo bande e sono molto chiare le regole di ingaggio e rivolgendosi alla Gentili dice non so se ha notato in questi giorni si parla di chiunque ma non di noi. Nel nostro caso nel fare le liste non ci sono state tensioni eliti. Beh dobbiamo anche dire che non ci sono tensioni eliti in Fratelli d'Italia perché è l'unico partito che può portare in Parlamento persone diverse nel senso che la Fratelli d'Italia passa dal 4 al 25% quindi non deve tagliare nessuno mentre gli altri partiti devono fare tagli al personale. In Fratelli d'Italia ci sono più posti di prima, è l'unico partito che assume, gli altri licenziano, Fratelli d'Italia è l'unico partito che assume persone per lavorare in politica, in Parlamento. E decide Giorgia Meloni non ci sono bande eccetera eccetera, non ci sono correnti come nel PD il capo corrente ecco. È un partito Fratelli d'Italia come gli altri di quelli referenziali al politico pertanto ad esempio nel PD il PD è un partito con un segretario che si elegge dopo un tot di anni quindi non c'è un proprietario o un fondatore realmente che gestisce il partito come in Fratelli d'Italia, Forza Italia, nella Lega, Neazione, in Italia Viva, ecco. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci e grazie.